Benvenuti alle teorie di Darwin, protagonisti che raccontano e si raccontano, e qui con me al circolo del lettore a Torino a Via Bogino 9, un collega a me caro, Gabriele Ferraris, critico musicale, intellettuale, tante belle cose. Gabriele, cominciamo da un fatto recente. Tu sei stato coinvolto in Transformers e ritratti di musicisti rivoluzionari. Ti puoi spiegare cos'è esattamente? Sì, è una mostra molto bella, curata dal nostro collega e amico Alberto Campo, alle officine grandi riparazioni, che è questo spazio straordinario e magico che Torino ha trovato. Una mostra di 26 fotografie. Musicisti rivoluzionari. 26 musicisti rivoluzionari, fotografie straordinarie, molte mai viste, che provengono dal fondo della Get Images. Ho, tra l'altro, fatto una visita guidata a questa mostra, raccontando attraverso quelle fotografie un po' la storia del rock e soprattutto la mia storia personale di Alice nel Paese del Rock. Sì, poi da Elvis Presley al Daft Punk. Quindi c'è tutto un grandissimo... Bene, arriviamo alla storia di Gabriele Ferrari, soprattutto la storia professionale, che è una storia ricca di cose, di cose belle. Allora, tu entri alla stampa nel 1982, giusto? Esatto. Ed è un anno anche importante perché è l'anno del mondiale, no? Quindi, ecco, come entri alla stampa? Entro grazie ad un ascensore. È una classica storia alla sliding doors. Io ero un collaboratore, come tanti, di stampa sera. Andavo a portare i miei pezzetti, allora non c'era, non dico internet, ma neanche il fax, quindi scrivevo il pezzo, poi lo portavo a mano alla redazione di stampa sera. Un giorno, una mattina, anzi, perché stampa sera si faceva un mattino, prendo l'ascensore per via Marenco e sull'ascensore trovo un signore con l'aria molto severa, con un bel cappotto blu che mi fa lecchie. Io dico, ma io sono così cosà? Dico, mi venga a trovare. Questo signore, mi informai proprio da un fattorino amico, era niente meno che l'allora capo redattore centrale, ai tempi i capi redattori centrali valevano più di tre direttori di oggi. Era il capo redattore centrale della stampa che si informò sulla mia vita, sui miei studi, così se lei si lauri, poi venga da me e fra un anno lei sarà con noi. La profezia si realizzò. Ma chi era il capo redattore centrale? Pierangelo Coscia. Ah, Pierangelo Coscia. Io ho lavorato con Carletto Coscia in tante trasferte dietro lo sport. Compagni di sport. Compagni di sport. Poi nel 1995 tu diventi con Ezio Mauro responsabile del settimanale Torino 7. Esattamente. Un anno per te molto importante perché nasce il figlio. Francesco. Nasce Francesco. Ecco, tu partiamo da una definizione che hai dato di Torino 7, che è una comunità che mi è piaciuta moltissimo. Ecco, perché? Perché io ho sempre pensato che il giornale, allora era il giornale di carta, ma credo in genere l'informazione non possa essere unilaterale. Nasce da un rapporto che vede insieme tutte le componenti. chi scrive, chi fa il giornale, chi lo legge e a sua volta manda dei segnali. E poi ho voluto anche creare questa idea di comunità del giornale chiedendo a quelle che io ritenevo le personalità più interessanti della Torino, che stava cambiando profondamente, perché quelli erano anni di grande cambiamento per Torino, di partecipare al giornale scrivendo, tenendo delle rubriche, pubblicando degli interventi. E così il giornale Torino 7 diventava qualcosa di estremamente permeabile, che dava e assorbiva con la comunità che lo circondava e la quale si rivolgeva. Ma credo che adesso sono cambiati gli strumenti, sono cambiati i supporti, però io credo che questa idea di informazione condivisa rimanga centrale. Ecco, poi ci sono appunto, come hai detto tu, firme di prestigio, ci sono collaboratori straordinari, da Ritizzetto a Culicchia, Perissinotto, Baiani, insomma hai scelto Ormezzano il meglio. Tutti i cari amici e tutte le persone che hanno creduto in questo progetto e l'hanno fatto, direi, anche con spirito molto volontaristico. Tra l'altro noi paghavamo, devo dire, pochissimo, quindi era un gioco quasi. E poi la grande soddisfazione nel novembre del 2008 è di arrivare al millesimo numero, che è sempre un traguardo, stavo dicendo, mille numeri, insomma, di un settimo numero. Facciamo una bellissima festa, proprio oggi era l'officina di grado di riparazione, che erano appena state neanche riaperte, erano appena state sgomberate. Fu a novembre, faceva un freddo terribile, eppure portammo un botto di gente in questo enorme duomo, in questa immensa cattedrale post-industriale. Vennero i torinesi e anche lì ci fu proprio questo rapporto, perché poi tutti i collaboratori del giornale vennero, parlarono con la gente. Fu una bella festa, tanti musicisti, artisti, volero esibirsi. Fu un bellissimo ricordo. Gabriele Ferraris vuol dire per noi lettori, soprattutto i concerti, i cantanti, i musicisti e il rock. Insomma, tu ti sei occupato, soprattutto all'inizio della tua carriera, molto dei gruppi rock. Intanto, una curiosità, qual è stato il primo concerto che ricordi con affetto? Il concerto che ricordi con affetto, forse il primo? Ma sì, il primo concerto non si scorda mai. Ricordo benissimo. Ero un ragazzetto, andavo al liceo e lessi che al palasporto, allora si facevano lì i concerti. Ed era una cosa incredibile, perché se pensate, quello che sono adesso le regole sulla sicurezza e la capienza, era una cosa da paura. Ci stavano 6.000 persone al palazzetto di Parco Ruffini, dove oggi credo la capienza sia 3.000, 2.500, una cosa di questo genere. Ricordi fantastici, e non capitava niente. No, capitava, ma di solito fuori, perché cominciavano ad essere gli anni delle autoriduzioni. Però insomma, dentro nessuno si faceva male. e il primo concerto fu un Nicolosseum, una grande band che era un po' l'epoca del Progressive. Loro si sposavano, sposavano i rock con i jazz. John Iceman era un grande jazzista in realtà. Però a me piacque moltissimo, e di lì continuai a peccare. Fu una stagione straordinaria, poi vennero nell'ordine, in filata c'erano Elton John, Ickin Crimson, Rose Stewart. Ricordo forse, non so se per Rose Stewart ebbe come, potrei sbagliare, ma come gruppo di apertura. I gruppi di apertura erano sfortunatissimi, allora rifischiavano. C'erano gli area, dico gli area che oggi è un monumento, così furono coperti di fischi in una maniera indecorosa. Cioè invece il...